L'amministrazione comunale di Fano sempre più a favore dell'energia sostenibile, infatti sono stati sostituiti in città fino ad oggi ben 3200 punti luce facendo risparmiare così consumi e costi. Gli interventi comprendono oltre alle principali strade fanesi anche gli istituti scolastici. A spiegarci nel dettaglio i lavori è l'assessore Barbara Brunori. Proprio in questi giorni stiamo lavorando sulla riqualificazione di via Roma che prevede la sostituzione di 45 corpi illuminanti e la riqualificazione di 4, quindi proprio dei nuovi corpi. Dopo questa procederemo con tre nuovi attraversamenti pedonali di cui due in via Soncino Sant'Orso e uno in via 4 Novembre. Naturalmente è un primo straccio degli attraversamenti che ne realizzeremo da qui fino al 2023, tre ogni anno e che già sto programmando assieme anche alla Municipale Ad Aset in funzione di quelli che sono i punti un po' più pericolosi della città. Antecedente a questo abbiamo illuminato e riqualificato via La Mendola, tutto viale Adriatico e anche poi quell'importante lavoro fatto sulla cavea del Lido con proprio delle nuove installazioni. Abbiamo terminato in questi giorni tutta la riqualificazione del sottogronda del Lido e anche naturalmente del Ponticello che collega il Lido all'Arzilla. A settembre partiremo con dei nuovi impianti di illuminazione, pista ciclabile Fano Fenile, via del Ponte, via Capellini a Torrette ed anche una parte di via Chiaruccia. Naturalmente l'intenzione in questi anni è palese perché riqualificare, efficientare tutto quello che è un servizio luminoso, sicuramente questo ci permette di andare sempre più su una direzione di sostenibilità, di sicurezza degli ambienti in cui viviamo.